Stai calmo, ti vedo un po' troppo casato. È proprio tatticamente sbagliato mostrare tutto questo entusiasmo. Non hai capito che io le voglio chiedere di venire a vivere con me? Sei scemo? Siamo arrivati, eh? Bella, ragazzi! Pronta? Sì. Vai a vende! Questo è il primo viaggio che Vincenzo fa senza di lui. Senti, ma chi ne dice di uno sciallatello alla malfitana invece di andare in Sicilia? Vincenzo, amore! Ma chi ci fai qua? Ma è possibile che io non posso fare una cazzo di vacanza normale senza che tutti stanno in ansia per me? Ma perché nessuno si fida di me? Che non dici la verità. È davvero il bilocale che ti fa paura. Che non dici che ha paura di me. Ma ce l'avessi io una persona che si preoccupa per tutte le stranzate che faccio? Sei fortunato. Tutta la vita che aspettavo questo giorno, quello in cui il brutto matroccolo si sarebbe trasformato in uno splendido cigno. Però io così mi sento un po' un coglione, raga. Ma stupendo! Zero paura. Zero. Zero paura. Tutti quei treni su cui sali per caso che ti portano dove non ti saresti mai aspettato. No ill' 지난 dados ci infsecretamente. Oh. E non c'è qualcosa di più che tuowner e ti puoi. So, awfully l'euplica che gli altri pi MAX進.' Letta la 63 di primavera poi?